Ciò che accade all'interno della classe dipende da tutti quelli che sono presenti. Se ne avete uno prepotente, lo dovete essere compatti nel giro e piantala, così qui non si fa. Perché se i bulletti hanno la possibilità di fare solo una singolarmente, se la prenderanno con qualcuno, qualcuno di voi sarà la vittima. Se qualcuno di voi è il carnetice, fanno i cacci nel sedere. Ma se qualcuno di voi è la vittima è perché il resto della classe l'ha lasciato solo. Quindi la classe deve essere unita e compatta contro le persone così. Come ogni comunità deve essere compatta contro le persone carnali. Noi vogliamo le persone per bene, non le persone carnali. Quindi unite e compatte contro i bulli. Cercate alleanze, costruitele, non state mai isolate di questo numero. E comunque ci sono sempre gli adulti, quindi dovete obbligatoriamente rinvolgere. Gli adulti devono pubblicatoriamente da diretta, che siano gli insegnanti, i genitori, gli adulti che stanno intorno, il coach, l'allenatore, la maestra, qualche disciplina specifica. Ovviamente i docenti, i bidelli, tutti gli adulti sono chiamati a risolvere questo problema. No, lo risolvete da soli. Da soli potete solo aiutarvi a resistere. Ok, bene.